. Grande fratello Vip, Jeremias, il retroscena con una ex concorrente. . Jeremias Rodriguez del GFVip, il messaggio a una ex concorrente. Jeremias Rodriguez, nel bene e nel male, è stato sicuramente protagonista assoluto di queste prime settimane passate nella casa del grande fratello Vip. . Difatti, se nei primi giorni ha catalizzato lattenzione per via del flirt che ha avuto con Carla Cruz, negli ultimi giorni ha fatto molto parlare per la tremenda discussione che ha avuto venerdì scorso con Simone Izzo e, successivamente, per delle brutte dichiarazioni contro il presentatore Daniele Bossari. . . Finita qua? Nemmeno per idea perché Jeremias Rodriguez ha fatto discutere in queste ore anche per una clamorosa rivelazione fatta dal settimanale diretto da Alfonso Signorini Chi. . . In pratica, nell'ultimo numero del magazzine, è stato svelato che il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez, prima di entrare nella casa più spiata dagli italiani, avrebbe mandato un romantico messaggio privato su Instagram alla bella Elenaire Casalegno. . . Tuttavia, la ex concorrente del reality show condotto da Ilari Blasi, la quale ha da poco iniziato una nuova relazione dopo il naufragio del suo matrimonio, sembra abbia immediatamente cancellato il messaggio ricevuto. . 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 Motivo per cui ha annunciato su Twitter di aver contattato la produzione del Grande Fratello Vip per chiedere delucidazioni a tal proposito. . Insomma, Jeremias Rodriguez non è certo passato inosservato in queste prime due settimane passate nella casa del GF Vip, tra flirt, litigate e dichiarazioni shock. E chissà se potrebbe rischiare davvero l'espulsione. . Potrebbe esserci questo clamoroso colpo di scena? Per scoprirlo non resta che seguire la quarta puntata del GF Vip prevista lunedì prossimo su Canale 5. .